dove si prenderanno per attuare limitando per quanto possibile gli effetti negativi che le opposizioni oggi denunciano? Da quello che ho capito si sta ancora lavorando sui livelli essenziali delle prestazioni e soprattutto c'è la grande discussione sulla spesa storica perché il tema è esattamente quello, se partiamo dalla spesa storica e quindi dai dati che oggi emergono dal mezzogiorno è chiaro che di risorse ne servono tantissime e comunque difficilmente si riescono a raggiungere dei parametri che siano realmente in linea con quelle che sono le esigenze minime. Dopodiché io aggiungo una cosa da ex Presidente di Regione ed ex Commissario, noi comunque partiamo da una situazione di svantaggio di una grande parte del Paese, soprattutto rispetto alla salute e anche quando noi abbiamo stabilito un livello minimo stiamo dando per scontato che ci sarà comunque un cittadino che avrà rispetto ad un altro una prestazione inferiore, perché mentre il Nord comunque aggiungerà risorse a quella che è appunto stabilita come tabella minima, il Sud farà fatica, quindi a me preoccupa molto non solo come si arriverà a stabilire qual è la prestazione minima, ma soprattutto come poi si potrà in qualche modo dare un'assistenza adeguata e uguale a tutti i cittadini, questo è un tema. Dopodiché lasciatemi dire una cosa, qui l'unico che veramente non ha mai lavorato perché si raggiungesse questa, diciamo, chiamiamo l'autonomia, è Berlusconi. Berlusconi per 30 anni ha tenuto testa la Lega che voleva, lo ricorderemo, la devolution e poi l'autonomia e poi l'abbiamo chiamata in tutti i modi. Berlusconi è stato in grado di frenarla per 30 anni. Giorgia Meloni avrebbe dovuto fare come Berlusconi. Probabilmente oggi invece Giorgia Meloni ha voluto in qualche modo portare sulla sua riforma, quella del premierato, la Lega e ha dovuto in qualche modo... Berlusconi da questo punto di vista gli va riconosciuto oggi, è stato veramente un freno a quell'autonomia o devoluzione che comunque da bossi era iniziata tanti anni fa. Proprio mentre tornavano dalla manifestazione delle opposizioni con...